L'aeroporto di Pescara, aeroporto d'Abruzzo, è in crescita. A dimostrarlo, nonostante le difficoltà economiche e sindacali, sono i numeri di traffico in termini di voli e passeggeri. Le nuove rotte, aperte con scali importanti come Oslo e Toronto, sono fiori all'occhiello di un aeroporto che si deve confrontare con il sistema aeroportuale romano, che assorbe gran parte del traffico in incoming, cioè in ingresso, anche diretto verso la nostra regione. Competere con la capitale non è e non sarà possibile per numeri ed attrattiva, ma si può diventare il terzo scalo dell'Italia centrale, mettendosi a sistema con Ciampino e Fiumicino. E il turismo a chiedere uno sforzo in più, a partire dalla dotazione infrastrutturale. L'aeroporto è un'infrastruttura che è finanziata per alcune parti con le risorse del turismo per una valorizzazione turistica all'aeroporto, ma l'aeroporto è soprattutto un'infrastruttura a Tucur. Si deve evitare che, come è successo per altri aeroporti in Italia, che le azioni di co-marketing che vengono fatte per portare voli e turisti in realtà non si traducono poi in risorse perché i turisti non rimangono sul territorio abruzzese. Su questo stiamo ragionando con azioni più mirate di co-marketing e su questo ragioneremo anche per eventuali azioni di co-marketing con charter e tour operator che vogliano portare turisti in Abruzzo, ma che dovranno certificarci la permanenza in alberghi o comunque in territorio abruzzese. Chiaro che poi ci sono le destinazioni in linea e noi abbiamo da tempo cercato di assecondare la nostra strategia di penetrazione di alcuni mercati turistici con il volo di linea. Questo perché non tanto e non solo perché questo possa servire per portare turisti, ma per dare un segnale di investimento su quella destinazione. Così è stato per Oslo, così è stato per Praga ed è una linea che ci sta premiando perché l'attenzione che riceviamo dai tour operator di quelle destinazioni, dagli operatori turistici, è un'attenzione positiva proprio in virtù di queste scelte che denotano la volontà di investirci.